Recenserie presenta Ocipitale destro Sì, giallo Va bene E con questo è tutto Arrivederci alla prossima Better Call Saul Ne parliamo in un podcast pieno di ospiti Venerdì alle 18 su Active Web Radio Ciao, sono Martin Moody E sono il Deus Ex Machina di Recenserie E questo è lo spot pubblicitario Che non mi è stato richiesto di fare Ma che faccio lo stesso Perché sono il Deus Ex Machina di Recenserie Per il podcast di Better Call Saul Recenserie presenta Buonasera, questa è una prova audio Perché ci rode tantissimo il culo Che abbiamo deciso di infilarci un procione nel naso Allora, Gianvito, com'è il tuo procione? È abbastanza... Non mi dico che ho detto Ah, bene Bene, bene Mentre Fabrizio, com'è invece la tua banana? La mia banana? Sì? Mentre Valeri, in realtà com'è il tuo occipitale destro? Sì, giorno Non lo stesso Va bene E con questo è tutto Arrivederci alla prossima Better Call Saul Ne parliamo in un podcast pieno di ospiti Venerdiale 18 su Active Web Radio